C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni. O per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi un milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro evitiamo la plastica monouso. Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta. Grazie. 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 Grazie.